Abbiamo adesso sul palco della Bella Danza i due giovani artisti di formazione scaligera che hanno già danzato per noi all'inizio della serata, che interpretano per noi una coreografia intitolata Variation for Two di Emanuela Tagliavia sulla musica di Ottorino Respighi. Danzano alla Bella Danza Carlotta Di Monte e Samuele Gamba. Grazie. 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 Grazie.